Cari elettrici e cari lettori di Gazzetta Italia, oggi abbiamo la nostra sede, Dominica Zamara, soprano. Sono felice di essere tra voi. È un piacere averti con noi e in quest'ultimo numero di Gazzetta Italia abbiamo presentato un nuovo CD di Dominica. Diciamo che durante il periodo del Covid, la pandemia, chiusi a casa, si ha voglia di realizzare i propri sogni e il cassetto? Tantissimo, ci è venuta grande ispirazione con il maestro Amadeo Carocci, grande chitarrista di Roma. Abbiamo realizzato questo disco dedicato al grande Mauro Giuliani, compositore italiano di Bisceglie, però poco apprezzato in Europa. Allora vogliamo valorizzare queste piccole carri musicali, sei ariette, sei cabattine di Mauro Giuliani, testi di Metastasio. Ma come queste ariette nell'Ottocento? Erano una sorta di musica popolare? Esatto, esatto, buonissima attenzione perché c'è splendida melodia, grande Giuliani era grande melodista, si sente proprio, si percepisce bel canto italiano in mezzo. Splendida melodia, belli testi che trattano d'amore, d'amore, di sofferenza, allora molto testi proprio per ogni tipo di pubblico. E sei accompagnata da Amadeo Carocci. Sì, sì, mi è accompagnata da chitarra classica maestro Amadeo Carocci, grande chitarrista e compositore di Roma, che ha anche chitarra ordinata in Valencia, proprio in stile di Giuliani, all'epoca proprio. Questo stile è costruito, splendido suono. Bene, allora se volete godere, provare a ascoltare il CD di Dominica Zammare e Amadeo Carocci, lo trovate sul sito di Gazzetta Italia e vi arriverà anche autografato. Certamente, con dedica personalizzata. E se volete sapere di più su Dominica Zammare, cercatela sempre su Gazzetta Italia, c'è una lunga intervista fatta qualche mese fa che ti racconta. Grazie Dominica. Grazie mille, a presto.